Dopo aver ultimato la limatura strutturale applico due stesure di verde pastello semipermanente. Se vuoi vedere la realizzazione completa con spiegazione tecnica di questo trattamento seguimi su Instagram o sul nostro canale di Youtube Sfruttando la dispersione del colore applico polvere sirena. Sigillo lo sfondo per il decoro con Magic Shine sigillante senza dispersione con filtri UV anti-ingiallimento. Con Deco Gel e pennello perfetto realizzo la Nail Art in superficie. Se vuoi vedere tutti i tutorial seguici su Instagram sul profilo Le Unghie di Mikol Per confrontarti con tante altre ragazze iscriviti al nostro gruppo chiuso su Facebook Le Unghie di Mikol Se vuoi approfondire tutti i sistemi di ricostruzione i metodi di limatura, la preparazione della lamina naturale e tanti altri argomenti li puoi trovare sul mio manuale tecnico La ricostruzione unghie secondo Mikol in vendita su Amazon Trovi tutti i prodotti utilizzati nel video sul nostro sito www.leunghiedimicol.com Se il video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un like e di condividere Grazie